La Polizia di Stato ha eseguito una misura cautelare a carico di un infermiere di 52 anni, indagato per violenza sessuale pluriaggravata commessa ai danni di due pazienti, una delle quali minorenne, del reparto di psichiatria dell'ospedale Sant'Elia di Caltanissetta. Le indagini della squadra mobile hanno permesso di raccogliere gravi prove a carico dell'indagato, tanto che la procura ha chiesto ed ottenuto la misura cautelare. Il GIP ha infatti disposto l'interruzione dell'esercizio dell'attività professionale per l'uomo per 11 mesi e l'ASP ha già avviato le procedure disciplinari. Le indagini sono scattate a seguito della segnalazione fatta da una minore straniera non accompagnata, sbarcata in Sicilia un anno prima del suo ricovero presso il reparto di psichiatria per un disturbo del comportamento. L'infermiere, secondo quanto emerso durante le indagini, ha più volte baciato sul collo la minore, palpeggiandola e tentando anche di andare oltre. Solo la presenza di altre pazienti ha permesso di interrompere le presunte violenze subite. Le indagini hanno fatto emergere un altro presunto episodio, questa volta ai danni di una maggiorenne avvenuto nel 2018 e mai denunciato. L'uomo adesso, oltre a dover rispondere del gravissimo reato di violenza sessuale, aggravata dall'aver commesso il fatto ai danni di una minore, dovrà rispondere delle aggravanti di aver commesso il fatto con violazione dei doveri inerenti al pubblico servizio ed in danno di una persona ricoverata presso una struttura sanitaria.